L'emergenza legata al coronavirus è stata sicuramente la protagonista di questo 2020 e che ha obbligato tutti i sindaci a rivedere quella che era la programmazione in funzione invece della gestione in maniera tempestiva, immediata, di azioni che potessero immediatamente mettere in sicurezza i propri concittadini. Nel mio caso ho ritenuto di blindare le case di riposo dove c'erano appunto le fasce più deboli dei miei concittadini in tempi non sospetti. Abbiamo messo immediatamente in piedi una consegna a domicilio di tutti i beni di prima necessità per tutte quelle anziane, quelle fasce deboli che per tanti motivi era giusto non uscissero di casa e l'abbiamo fatta in maniera completamente gratuita. Abbiamo messo in campo anche un progetto di vicinanza e supporto psicologico grazie alla collaborazione di tutti gli psicologi professionisti del territorio e abbiamo in questo modo dato un sostegno anche concreto e morale a quelle persone che proprio a causa del lockdown si trovavano improvvisamente isolate e magari sole senza possibilità di avere un contatto diretto con i propri parenti, con i propri cari e in questo modo un professionista poteva intervenire dando un importante supporto. A questo punto sono arrivati anche i buoni spesa a disposizione di tutti quei nuclei familiari che non erano già seguiti dai servizi sociali ma che proprio a causa del coronavirus avevano perso un reddito importante. Siamo riusciti a distribuire circa 3.000 buoni spese per un totale di 75.000 euro e a parte due casi isolati sono andati tutti a buon fine a famiglie che effettivamente ne avevano la necessità. L'importantissimo è nel momento in cui c'è stata la possibilità di riprendere le attività normali dare un sostegno concreto alle aziende e lo abbiamo fatto sospendendo una rata della tariffa rifiuti per un totale di 118.000 euro così che non ci fosse la necessità da parte loro di sottrarre ulteriore tempo in bandi o cose molto difficili da seguire. Ci siamo impegnati per attivare un dialogo con l'ASRA per far sì che la Casa della Salute in futuro di Bondeno abbia ancora più servizi così che una nuova emergenza non ci colga impreparati e anche per le visite ordinarie ci sia la possibilità di farle in loco. E stiamo pensando a questa seconda ondata che sta colpendo ancora duramente le nostre attività. Lo faremo dando un Natale il più possibile sereno a costo zero per l'attività in cui abbiamo investito circa 50.000 euro. Porteremo il Natale in tutto il centro storico ma anche in tutte le frazioni ritenendo importante anche in questo caso un ritorno virtuale alla normalità e un sostegno importante in un momento dell'anno in cui le famiglie sono abituate a spendere e quindi portare dentro le imprese. Lo faremo anche dando una forma di ulteriore sostegno con un bando che stiamo studiando per dare anche un supporto concreto a queste attività che mai come durante il lockdown si sono dimostrate fondamentali per il reperimento di beni di prima necessità sotto casa.